Certo che c'è una connessione tra quello che è successo e quello che l'uomo ha combinato in questi decenni. In una visione sistemica delle cose è ovvio che un attore, l'uomo, ha violentato tutti gli altri e il sistema in qualche modo si è ribellato. I mari puliti di Venezia, i cieli della Valpadana, i cieli della Cina sono stati un enorme manifesto del pianeta in difesa di se stesso. Che cosa vorrei che si realizzasse nel futuro? Vorrei semplicemente che si realizzasse un futuro più equilibrato, un futuro in cui l'uomo ricominciasse, reimparasse a vivere in armonia con il mondo, in armonia con se stesso, in armonia con il mondo. Vorrei che si realizzasse un futuro in cui chi può, la leadership politica, i leader economici che guidano questo mondo, tutti insieme, riequilibrassero il sistema. Il contributo quindi delle aziende è un contributo proprio molto umano, è leonardesco, cioè noi dovremmo rimettere il genio che solamente l'uomo ha dimostrato di avere nella sua storia, nella storia del pianeta, al servizio del riequilibrio del sistema. E per questo credo che la parola magica del mondo che verrà dovrebbe essere la parola equilibrio, perché a noi quello manca. Non serve un nuovo estremismo opposto all'estremismo che abbiamo vissuto negli ultimi decenni. Serve equilibrio, equilibrio tra il benessere individuale che è stato asservito al lavoro, alla frenesia, il benessere materiale delle comunità, perché comunque il capitalismo industriale ha assolto a questo obiettivo meglio di chiunque altro prima, e il benessere del pianeta e di tutte le specie che lo abitano. Quindi la parola è equilibrio. Grazie.